Il circolo della Provercelli Tennis non vuole essere, specialmente in questo periodo, un circolo chiuso, è un retro esclusivo dei soci, ma proprio il nostro slogan è il circolo sta cambiando, cambiamolo insieme e vogliamo cambiarlo non solo con i nostri soci ma con la città e quindi siamo aperti a tantissime iniziative che già abbiamo fatto, quindi il fatto che poi ci sia il torneo di Tennis Challenge proprio in quel periodo penso che sia una cosa molto importante, un evento nell'evento, esattamente, parteciperanno appunto i tenisti professionisti alla serata e quindi daranno ancora maggiore importanza all'evento.